Irpino di nascita, ma radicato a Salerno e dirigente dell'Università di Fisciano, l'ingegnere Gianluca Basile, 48 anni, direttore generale dell'Agenzia regionale per le universiadi, è il nuovo supercommissario per il grande evento sportivo del 2019. Un nome di mediazione tra il Governo 5 Stelle e il Governo della Regione De Luca, al quale affidare poteri speciali per mandare in porto i giochi. Un incarico che negli ultimi sette mesi è stato ricoperto dal prefetto Luisa Latella, nominata dal precedente Governo. Sette mesi persi intorno alla questione del villaggio degli atleti e alla querelle sull'utilizzo della mostra d'oltremare, su cui si è registrato il netto dissenso di De Luca, che preferisce le navi da crociera per alloggiare le migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo. Inizialmente, nella legge finanziaria del 2018, si prevedeva che il commissario fosse un prefetto fuori ruolo, ma i ritardi e le polemiche interistituzionali hanno indotto Palazzo Chigi a prendere una decisione diversa. Nel Consiglio dei Ministri di stamattina la nomina di Basile, fedelissimo del Presidente della Giunta regionale. Il suo nome, le sue funzioni e la composizione della nuova cabina di regia sono scritte nere su bianco all'articolo 10 del Decreto Mille Proroghe. Il Governo ha stabilito inoltre che la consegna delle opere slitterà al 30 maggio del 2019. Per gli interventi da realizzare a Napoli dovrà esserci però un'intesa ad hoc con il Sindaco dei Magistris. Nella cabina di regia anche il Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, oltre alla FISU, il CONI e il CUSI. De Luca si è detto molto soddisfatto. Ci sono adesso le condizioni per fare un bellissimo evento, ha dichiarato il Governatore.